Il ponte ferroviario di Glenfinnan. È un viadotto ferroviario che sorge circa a metà della pittoresca linea West Island Railway, tra Fort William e Malague, nell'invernesce. In Harry Potter e la pietra filosofale, la professoressa McGranet, dopo aver sorpreso Harry volare per salvare la ricordella di Neville, lo trascina fin dal professor Quirrell.